Di Abdelaye di Akite, proveniente dal Crotone, un passato nell'Aprilia, insomma, torni a giocare in Serie C, con quali motivazioni a Teramo? Perché io l'anno scorso ho stato infortunato durante un anno e invece sono del Parma, ho fatto solo tre settimane al Crotone e la mia impezione è giocare, fare un campionato con tanti partiti e fare bene con il Teramo. Con il Teramo, contro il Teramo, hai fatto già molto bene con l'Aprilia, ti eri fatto conoscere disputando due campionati super, 44 presenze e 4 gol. Certo, con l'Aprilia è andata bene, era la mia prima esperienza in Italia e ho un bello ricordo con loro, spero di fare le stesse cose che ho fatto in Aprilia con il Teramo. Ti sei formato nelle Avre in Francia, ti manca un pochino la terra transalpina? No, perché io sono uno, mi piace muovermi un po', l'Italia pure è un campionato che a me piace e mi trovo bene pure qui. Le tue caratteristiche per presentarti a un po' i tifosi che ci seguono? A me non mi piace troppo dire le mie caratteristiche, io sono un giocatore, un difensore scerentral che piace giocare alla palla, mi piace come, perché l'allenatore lo conosco bene, l'ho avuto all'Aprilia e lui non piace un difensore che butta la palla davanti, sono uno abbastanza veloce e così. Quindi quando si è presentata l'offerta a Teramo, considerando che c'era anche Vivarini, non hai potuto dire di no? No, io ho chiamato il mister perché avevo altre richieste, però come ho avuto un bel ricordo con lui ho fatto un anno e mezzo, è stato il mio allenatore, io ho preso il mio cellulare e l'ho chiamato e lui mi ha detto che mi voleva e si è fatta così. Come procede, per chiudere, è una domanda extra diciamo calcistica, come procede anche la vita da sposato a distanza siderale, a distanza importante dalla tua famiglia? No, la vita da sposato è una cosa che non fa troppo tempo che mi sono sposato, sono due mesi, è la prima volta che vengo in ritiro senza mia moglie, però appena che scendo al Teramo, che prendo il mio appartamento e la faccio scendere con me.